Un secondo piatto che potete degustare al ristorante a Duomo d'Ecerenza è l'agnello lazzaro, una ricetta che noi abbiamo trovato in una tomba risalente alla fine del Seicento e che è stata rivisitata. Gli ingredienti per prepararlo sono agnello, olio, menta, aceto. Passiamo al procedimento. Mettiamo a riscaldare l'olio e facciamo rosolare l'agnello. Lo spezziamo con della menta e lo sfumiamo con dell'aceto. Ed ecco a voi il nostro agnello lazzaro da degustare al ristorante a Duomo di Ecerenza.